Fuori da Ghirardelli, vicino, allarga ancora per Buccero ma prevedibile il pallone, Rusin, attenzione a Ghiotto, attenzione a Ghiotto, servito il numero 11, Ghiotto controllo così così, lo Q colpito con il tacco, ancora Varesina, Rusin, Rusin, la sterzata, cross con il sinistro, Tareyev la mette fuori, contropiede Varesina, attenzione al tiro! Ghiotto vive Dani, termina di poco sopra la traversa, è il tiro più pericoloso fin qui. Ghirardelli sulla sponda fatta di spalla, sulla quale poi era arrivato Bottazzeva, ha portato palla in avanti, quindi è anche andata bene in questo caso la Varesina, grazie al fischio del direttore di gara hanno evitato qualche problema. Squizzato Ghirardelli, prova il destro! È uscita di poco, Tommasi l'ha comunque battezzata fuori, rimessa dal fondo. Di rigore, Ghirardelli pronto ad entrare, Sisti, pallone in mezzo, Ghiotto sul secondo palo, colpito da una zona molto vicina alla porta. Merigi, spizzata, Bottazzi della Valle allontana, ancora Tareyev in avanti, squizzato Ghirardelli. Accardo tocca e favorisce il recupero di Maggini che prova il destro, ci sta anche questo tipo di soluzione. L'abbiamo visto con la Varesina, adesso ci ha provato Maggini. Accardo dalla bandierina, di testa lo stacco di Tardelli che porta in vantaggio l'Accademia Inter, al primo tiro in porta, 1-0. Rusin in verticale per Colugnat, sponda Ghirardelli, Vedani si allarga a Ghiotto, Vedani rientra in buca per Ghirardelli, si gira, prepara il destro, Tommasi si distende. Pallone in mezzo, Maggini, Corso, corrono, Buccero a Accardo, prova di stendersi l'Accademia, Corso ritarda un po' il passaggio ma comunque pallone che arriva da Accardo, grande sponda, Corso, in bucata per Buccero. Buccero, uno contro uno con Rusin, Buccero vuole il destro, poi il sinistro, punta a Accardo, fuori gioco, fuori gioco, gol annullato, è solo un rischio per la Varesina ma super contro piede Accademia Inter. Rusin, Bottazzi, Sala in terzietta, prova lo strappo Ghirardelli, allarga a Ghiotto, movimento di Ghirardelli, crea spazio a Ghiotto, Colugnat, Sala, prova il destro, centrale, Tommasi pare in due tempi. Per la formazione di casa la partita, quindi rimettere in equilibrio il risultato. Corso, grande sponda per Accardo, sovrapposizione di Merigi, Accardo, servito Merigi, Merigi, pallone in mezzo di prima, Boleto anticipa Buccero, Bottazzi, controllo, Bottazzi, retropassaggio, non trova nessun compagno. Ancora Accademia Inter con Maggini, Maggini, ne salta tre, Maggini nel traffico, non passa, vicino, Bottazzi, non è fuori gioco, Bottazzi sinistro. Franzi, prova il cross in mezzo, Ghiotto controlla, Bottazzi, ancora Ghiotto, attende l'arrivo di Rusin, Rusin cross in mezzo, di prima, Tardelli, pallone che rimane lì, Colugnat, parlo, gol, il pareggio di Colugnat, entra nel secondo tempo e rimette in equilibrio la sfida. Rusin con la rimessa, si fa vedere squizzato, c'è anche Sala, eccolo il numero 17 che riceve, spalla la porta, Rusin cross, Tareyev di testa, era solo, non gliel'han chiamato, Martinoia, colpisce Tardelli, Martinoia, alto. Buoni propositi per il numero 2 che però si è rialzato subito. Tommasi, testa di Sala, Annale, recupero di Gamba, Colugnat, dentro per Gamba, 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 il destro! E perdona il numero 14, occasionissima, all'ultimo secondo per Gamba dopo una palla clamorosa di Colugnat.